Mia, cara, amatissima, Madre, il caso, o forse il destino, mi ha riservato di vivere dentro una guerra che immaginavo, ma che non conoscevo. Mi trovo in un avamposto d'alta quota, intorno solo neve e silenzio. La trincea austriaca è tanto vicina che pare di udire i loro respiri. Sono qui da poco più di un'ora e mi pare di essere diventato di colpo un vecchio, al punto che i miei studi e persino i miei ideali qui hanno perso il loro significato, come la mia giovinezza. Madre amatissima, ci sono giovani come me che muoiono ogni giorno. E anche quelli che torneranno a casa si porteranno dentro la morte che hanno conosciuto. E quel pensiero non li abbandonerà più. Si sentiranno dei sopravvissuti, condannati a morire due volte. Ma la cosa più difficile sarà perdonare. Se un uomo non sa perdonare, che uomo è? Se un uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare. Se un uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare. Se un uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare. Se un uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare. Se un uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare. Se un uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare, che uomo non sa perdonare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.